Siamo eredi di quel carisma che lo Spirito ha donato ai fondatori e non soltanto il carisma iniziale, ma c'è il carisma di ciascuna di noi. Ogni suora apporta poi nella missione ciò che il Signore ha dato come donna a ciascuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.